Per aggiungere l'anteprima dei due prodotti all'interno della pagina dedicata vai sulla barra degli strumenti, vai su e-commerce e trascina la schermata prodotti. Puoi a questo punto filtrare i prodotti per categoria e personalizzarne l'anteprima. Clicca sulla schermata prodotto con il tasto sinistro del mouse e clicca su modifica schermata per aprire la barra di personalizzazione. Puoi modificare il numero di prodotti per riga e apportare modifiche stilistiche all'anteprima prodotti. Dalle impostazioni avanzate puoi scegliere se mostrare e dove mostrare la barra di ricerca. Puoi scegliere di dare un ordine prestabilito ai prodotti, se rendere possibile l'acquisto, la sola prenotazione oppure puoi anche disattivare l'acquisto. La parte fondamentale come anticipato è l'associazione della schermata di anteprima alla categoria che vuoi che sia visibile all'interno della pagina. Vai dunque su filtra per categoria e seleziona la categoria o le categorie che vuoi aggiungere all'interno della pagina. la parola di un po' 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 di un